ma davidi non ci puoi girare con me niente ragazzi hanno fermato all'improvviso qua al parcheggio perquisito con i riati che c'è così bella raga davide cosa stai facendo ho preso pure a te la malattia borsi adesso patatini patato ragazzi prima di parlare a proposito se non conoscete la legge chi è stato arrestato per spaccio e quando vi fermano vi spogliano quindi prima di parlare informatevi bene silenzio oh raga comunque siete di compagnia ho visto e vado borsi sempre col telefono in mano te pure popol cioè sei di compagnia borsi se ci fermano a te no ma il bischio spogliano i nudi stavolta no a sto giro ci arrestano altro che buongiorno ragazze e ragazzi ma se no le ragazze si offendono perché dicono sempre che non le saluto e vi auguro a tutti un buon inizio settimana e mi raccomando eh chi si ferma è perduto ricordatevelo sempre bella